L'ipotesi PD a due province sembrava quella prevalsa, seppur a maggioranza relativa all'interno del CAL e poi il Consiglio regionale, attraverso il suo presidente Chiodi, vorrebbe rimettere tutto in discussione. Come vi comporterete? L'ipotesi del CAL, come ha detto lei, è un'ipotesi che però va declinata e sviluppata nei suoi particolari che fanno la sostanza. Chieti-Pescara, Pescara capoluogo sì, a condizione che Chieti sia capoluogo amministrativo. L'Aquila come capoluogo di regione sì, a condizione che Teramo sia capoluogo amministrativo, sede degli uffici periferici dello Stato. Ciò prevede un accordo tra queste due città e queste due province che poi il Consiglio regionale in qualche maniera debba riadottare all'interno del proprio provvedimento. Se questo accordo non c'è, se prevale la contrapposizione, gli istinti vecchi che noi pensavamo superati al 1970 quando ci furono gli scontri per la sede del capoluogo, per me viene prima, prevale, l'unità della nostra regione. Per cui se Chiodi propone una provincia unica che non ha nessun accordo ma che fa scoppiare tutte le contrapposizioni locali allora è meglio non far nulla, il Consiglio regionale non si pronunci e vada oltre.